Partiamo dalla riete. Questa giornata porterà allegrie e una serie di incontri nei quali potrete sfoderare tutto il vostro entusiasmo e tutta la vostra simpatia. Ottima giornata per gli acquisti. Toro, un po' di delusione per un voltafaccia di un amico per cui avreste messo la mano sul fuoco. Parliamo di lavoro, esperienza accumulata e il miglior faro per evitare incresciosi abbagli, rischiando una figuraccia davanti a colleghi e clienti. Gemelli, il vostro sabato gode di giusti appoggi astrali per regalarvi tanto divertimento e un pizzico di spensieratezza, proprio quello che ci vuole. Cancro, bellissima questa giornata, un evento insolito in ambito lavorativo vi renderà euforici e nel corso della serata non è da escludersi un invito intrigante con risvolti molto eccitanti. Leone, le stelle mettono a soquadro le emozioni facendo affiorare gelosie, sospetti e rancori. Meglio fare un repulisti. La fase invita a godervi ciò che tenete strettamente in mano piuttosto che rincorrere i sogni proibiti. Vergine, gli astri di oggi minacciano di rovinare i vostri programmi per il sabato con un impegno di lavoro imprevisto. Siate pazienti e ricordatevi che comunque la serata potrà essere speciale. Basterà assicurarvi la giusta compagnia. Bilancia, l'aria intorno a voi si fa più serena nonostante i doveri da assolvere. Potrete affrontare ogni problema mettendo in gioco logica e intuito in parti uguali. Scorpione, dedicate un po' di tempo e di attenzione a tutte quelle persone care, amici, familiari, partner che ultimamente avete trascurato. Sarà un ottimo modo di sfruttare questa giornata di riposo dal lavoro, lo dicono le stelle. Sagittario, giornata brillante, movimentata sotto il profilo professionale. Non succederanno grandi cose, forse non raggiungerete traguardi straordinari, ma non vi annoierete. Capricorno, l'amore regna sovrano. Non vi rimane che godervi questo momento di intesa strepitosa con il partner. Se siete single, vi attende un sabato stuzzicante in cui le sorprese non mancheranno. Acquario, siete efficienti, ricchi di idee e potete realizzare ciò che vi sta più a cuore sia nel lavoro che nella sfera privata. Riceverete notizie da lontano, farete voi una telefonata a una persona. Pesci, la forma non sarà eccezionale, potreste avvertire un senso di spossatezza provocato dallo stress accumulato nel corso della settimana. Basterà la giornata di oggi e quella di domani per ritrovare energie e spirito d'iniziativa.